Musica Corruzione e appalti truccati, un funzionario della regione finisce in carcere e 7 imprenditori agli arresti domiciliari, 24 in totale le persone indagate. Caccia alla banda dei garage, la polizia blocca un moldavo e recupera la Porsche rubata, in fuga altri due uomini sorpresi in un casolare abbandonato di Monteschiantero. E' tornato alla casa del padre Don Sergio Vertozzi, giovedì i funerali al Duomo. A Fano due giornate dedicate alla formazione e addestramento di volontari di protezione civile contro gli incendi boschivi. Accoglienza e promozione a Fonte Avellana, l'Assemblea dell'UMPI di Pesaro e Urbino, il presidente Bartocetti chiede una legge regionale che riconosca il ruolo delle proloco nella strategia turistica. Parte da San Costanto la prima rassegna della decima edizione di Passaggi Festival, ospite Andrea De Logu, Veronica Piretti, Iva Zanichi e Catena Fiorello. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Apriamo con la cronaca perché 90 uomini dei carabinieri forestali stanno eseguendo una complessa attività di indagine che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali a carico di 8 persone. 24 in totale le persone indagate, un funzionario pubblico dipendente della regione Marche è stato condotto in carcere e altri 7 imprenditori di cui 4 residenti nel Lanconetano, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 1 in provincia di Arezzo, sono stati posti agli arresti domiciliari accusati di aver posto in essere un giro di tangenti per pilotare gare di appalto e affidamenti relativi alla manutenzione idraulica con estesi tagli di vegetazioni per ricavare biomasse combustibili. I militari hanno eseguito anche diverse perquisizioni a carico di 15 indagati accusati per i reati di corruzione turbativa d'asta, truffa aggravata ai danni della regione, falso e rilevazione dei segreti d'ufficio. L'ipotesi è quella di un sistema di favori e tangenti finalizzato a condizionare gli esiti delle gare di affidamento dei lavori lungo i fiumi marchigiani. Il funzionario arrestato, in concorso con due colleghi impiegati nella provincia di Pesaro e Urbino, risulterebbe essersi prodigato anche per consentire ad una delle società costruttrici di aggiudicarsi il ribasso d'asta per un intervento nella provincia pesarese grazie a false integrazioni di lavori mai realizzati ma regolarmente liquidati dalla regione Marche. Ed è morto all'età di 84 anni Don Sergio Bertozzi, direttore della Casa del Clero e nominato per un triennio vicario episcopale per il clero anziano. Bertozzi, ordinato presbitero a Saltara nel 1963, aveva ricoperto diversi incarichi tra cui quello di vicario generale della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Inoltre è stato esecutore testamentario del cardinale Giuseppe Paupini. Con i beni lasciati dal cardinale fece costruire, 30 anni fa, il centro di spiritualità di San Francesco in Rovereto nel comune di Colli al Metauro. Egli presenta al Signore la sua vita sacerdotale trascorsa come servo buono e fedele nelle varie mansioni che gli sono state affidate, si legge in una nota della residenza vescovile di Fano. La Santa Messa con il rito delle sepie sarà celebrata al Duomo di Fano, giovedì 16 giugno alle ore 15. Dopo una vita lunga e generosa vissuta con il tratto della gentilezza, della mitezza e della bontà, padre Benedetto dei frati Cappuccini delle Marche nella giornata di ieri è tornato alla casa del padre. La celebrazione delle sepie avverrà domani, mercoledì 15 giugno alle 15.30 nel convento di Macerata. Ci spostiamo a Pesaro perché una donna, Simona Maio, è stata trovata morta alla fermata dell'autobus di fronte al parco Miralfiore. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto la donna di 52 anni accasciarsi a causa di un malore. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia di Stato. Non si esclude che il decesso possa essere collegato ad un'overdose, ma si attendono tutti gli accertamenti del caso. E si sono svolti a Fano i corsi di formazione e addestramento dei volontari di protezione civile sulle procedure contro gli incendi boschivi. Una iniziativa organizzata dalla Regione Marche in collaborazione con i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Vediamo. Contrastare gli incendi boschivi formando i volontari di protezione civile insieme alla collaborazione dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali. Si sono concluse con successo le giornate dedicate ai corsi AIB, addetti all'antincendio boschivo, organizzati dalla Regione Marche. Tre le province partecipanti e cento tra uomini e donne interessati. Nella nostra zona sono state coinvolte Pesaro, Urbino e Ancona con 40 volontari e sei mezzi della protezione civile insieme al supporto dei pompieri. Olivi, due giornate intense. Come si è divisa questa formazione? Sì, hanno fatto di ver 36 ore in classe e anche sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. In pratica, siccome l'antincendio boschivo è competenza della Regione Marche, la Regione Marche ha provveduto a formare diversi volontari per poi mettere a disposizione appunto dei vigili del fuoco o dei carabinieri forestali per la lotta contro l'incendio boschivo. Qual è stato invece il luogo dell'esercitazione? Dal Codma ci siamo spostati a San Biagio, a Col di Cave, che è un bosco appunto dove hanno potuto esercitarsi perché c'è sia la pianura sia in pratica il pendio per poter, i vigili del fuoco sono riusciti a far vedere e toccare con mano come va preso un incendio, da dove va attaccato, da che parte tira il vento e soprattutto per far conoscere una pianta rispetto all'altro, l'olivo, dalla conifera, dalla ginestra, dalle querce appunto per far conoscere ai volontari questi tipi di piante. Circa l'89% del suolo della Regione Marche è costituito da aree collinari o montane ricoperte per il 30% da boschi. Ad oggi si può contare su circa 550 volontari distribuiti su tutto il territorio regionale. Lo scopo di questa esercitazione è formare quanti volontari più possibile perché in caso di incendio, l'incendio si sa benissimo, specialmente quello boschivo, se viene preso in tempo e accerchiato si può domare con facilità, altrimenti poi è difficile. Quindi più volontari formati ci sono, a disposizione appunto come dicevo prima dei vigili del fuoco, dei carabinieri forestali, prima va attaccato e prima si salva da un incendio interfaccia vicino alle case. La squadra mobile di Pesaro ha fermato un moldavo sospettato di reati di ricettazione, di possesso di documento di identità falso e di residenza pubblico ufficiale. L'indagine è partita da una serie di furti consumati all'interno di 11 garage nella notte tra l'8 e il 9 giugno scorsi. I ladri che si erano concentrati nei box auto del quartiere Muraglia avevano rubato una Porsche Carrera Cabrio, alcune biciclette, capi d'abbigliamento e altri oggetti. I poliziotti, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti a Fano e a Pesaro, sono riusciti ad individuare la costosa cabriole nei pressi di un casolare abbandonato in località Monte Schiantello. Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso tre uomini all'interno dell'edificio, i quali, nel tentativo di darsi alla fuga, hanno innescato una violenta collutazione. Poi due dei sospettati sono riusciti a lanciarsi da una finestra e a far perdere le proprie tracce mentre un terzo uomo è stato bloccato. Lo straniero aveva con sé una carta di identità rumena falsa che utilizzava probabilmente per spostarsi nell'ambito della comunità europea. Invece nel casolare abbandonato da anni sono state rinvenute le chiavi della Porsche e alcune scarpe di marca, provento delle razzie nei garage. Il Moldavo è stato portato nel carcere di Villa Fastigi mentre l'auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Al termine dell'udienza di convalida del fermo, il giudice ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. E ora come ogni sera diamo spazio alle vostre segnalazioni e andiamo a vedere subito queste foto scattate a Gimarra perché un nostro reporter di strada denuncia lo stato di degrado di alcune strade come ad esempio via Poggi, via Rizzoli, via Padalino e via Murri. Di recente ci ha detto il segnalatore sono stati eseguiti dei lavori ma non è stato ripristinato il manto stradale lasciando le strade in questo stato. Andiamo avanti con le vostre segnalazioni, degrado e incuria segnalati anche a Falcineto. Questa è la situazione del fosso tra Cucurano e Falcineto ci ha scritto un telespettatore. Qui siamo in via a Tidio Ringolo e le immagini parlano da sole. Ci spostiamo in via Fanella a Centinarola dove un altro reporter ci ha inviato un video per segnalare oltre all'erba incolta il pericolo che corrono pedoni e ciclisti nel sottopasso ciclopedonale. Volevo farvi vedere le condizioni di via Fanella, per intenderci zona vicino al sottopassaggio dell'autostrada, il verde in quali condizioni si trova. Guarda la mia sinistra, questo è il verde gestito dal comune di Fano, io direi in maniera esemplare, e alla mia sinistra invece quello gestito dal residente che abita in questa casa limitrofa qui. Qui non si fa vedere nessuno del comune, vigili urbani. Questo invece è il gran lavoro fatto dal comune dove ovviamente dovrebbe dissuadere persone con motorini, con auto, ape, invece no, passa chiunque qui. Rischiando ovviamente, anche io delle volte quando passo col cane con mio figlio sul passeggino, rischio che qualche motorino a velocità sostenuta, ma anche ape, ripeto, passi qui dove potrebbe succedere l'irreparabile. Quindi questa è una via abbandonata veramente dal comune, da tutto, dal punto di vista di abbilità, dal punto di vista di verde, ma anche dal punto di vista di pulizia. La gente viene qui, oltre a questi problemi, anche l'inciviltà delle persone che lasciano gli escrementi dei propri cani qui, come già prima avete visto, e se ne sbattono ampiamente. E ora ci spostiamo a Fontavellana dove nei giorni scorsi si è svolta l'Assemblea dell'Umpli di Pesare Urbino. Il presidente Damiano Bartocetti ha chiesto una legge regionale che riconosca il ruolo costruttivo delle proloco nella strategia turistica. Il servizio di Simona Zunghetti. 522 eventi coordinate da 68 proloco per un totale di 5.000 volontari. La forza dell'associazionismo prevale anche nella provincia di Pesare Urbino, dove riesce a mantenere un ruolo strategico nell'accoglienza e nella promozione turistica. A conoscere a fondo le potenzialità delle tante realtà locali è il presidente provinciale dell'Umpli, Damiano Bartocetti, che ha convocato i vari presidenti e i volontari al monastero di Fontavellana, alle pendici del Monte Catria. All'ordine del giorno i progetti, le collaborazioni e il lavoro fondamentale svolto dalle proloco come sentinelle di salvaguardia dell'identità di ogni territorio. Non era così scontato portare così tante autorità oggi in questo monastero e soprattutto le numerosissime consorelle, le proloco. E il messaggio che oggi vorrei dare è fare comunità. Siamo qui per fare comunità e questo per noi deve essere un obiettivo importante, fondamentale e straordinario dei nostri borghi e delle nostre eccellenze. Oggi puntiamo su un nuovo progetto che è l'antica via del gusto, che abbiamo promosso assieme alla Regione Marche e il Natale che non ti aspetti, che ormai è gemellato con Bolzano e che vedrà proprio la luce in questi giorni un progetto di rilievo nazionale. Anche i volontari svolgono comunque un ruolo fondamentale? Strategici e fondamentali. I nostri volontari, lo ripeto, sono strategici e fondamentali. Se non avessimo le proloco noi oggi non potremmo essere qui a parlare di turismo e soprattutto non saremmo qui a ricorrere i tanti tanti eventi di enogastronomia, di cultura che si organizzano nell'intero territorio provinciale. L'Assemblea è stata anche l'occasione per chiedere alla Regione una nuova legge che riconosca il ruolo costruttivo delle proloco nella strategia turistica con obiettivi a lungo termine e da intensificare insieme ai centri IAT. A confermare il sostegno della Giunta regionale, l'assessore Francesco Baldelli. I due anni di stop, come poco fa diceva, rappresentano la testimonianza di come le proloco sul territorio siano uno straordinario moltiplicatore per la nostra economia e per la valorizzazione di un ambiente come quello della provincia di Pesaro Urbino incontaminato e che in 30 km può offrire diverse tipologie di turismo da coloro i quali amano la montagna fino ad arrivare alle nostre spiagge attraverso delle colline piene di emergenze culturali. Noi coinvolgeremo le proloco in tutte le dinamiche di rilancio del turismo e della cultura di questi territori ad esempio iniziando dall'enoturismo sul quale stiamo lavorando con i colleghi fino ad arrivare al rilancio delle infrastrutture che colleghino sinergicamente i territori interni con la nostra costa. Questo faremo in questo gioco di squadra anche con le proloco. Il sistema turistico, la qualità della vita e il paesaggio, ha poi evidenziato il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico delle Marche rappresentano i tre elementi centrali dell'offerta turistica e le proloco, ha detto, danno un forte impulso al valore dell'accoglienza. In questi anni è cambiato profondamente il ruolo del turismo all'interno dello sviluppo economico della regione. È un turismo che punta essenzialmente ai valori dell'esperenzialità, dell'accoglienza, del vivere borghigiano. All'interno di questi concetti ovviamente le proloco sono un elemento di aggregazione forte e centrale rispetto alle politiche regionali. Per questo il governo regionale le riconosce, le sostiene e in prospettiva, io credo, andrà a potenziarle proprio per continuare a sviluppare un valore dell'accoglienza che sia preeminente rispetto all'offerta turistica più generale. E a proposito di turismo, il Comune di Fano continua a lavorare in sinergia con gli operatori del settore per far sì che la città sia una destinazione turistica a misura di bambino attraverso attività ed eventi dedicati. Sentiamo l'intervista all'assessore Echien Lucarelli. E' partito l'anno scorso e si sta concretizzando quest'anno il percorso per far diventare Fano una destinazione turistica a misura di bambina e di bambino in linea con il grande progetto della città di Fano, città dei bambini e delle bambine. Oggi abbiamo incontrato tutti gli operatori economici e gli operatori culturali perché per fare turismo, per diventare una destinazione turistica a misura di bambino dobbiamo fare rete tutti insieme e quindi nel nostro sito apparirà una pagina specifica che darà tutte le informazioni dedicate ai turisti che arrivano nella nostra città indicando anche quelle che saranno le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari, la ristorazione ma anche i luoghi del divertimento, il mondo della cultura e ci sarà anche un calendario specifico perché è da tempo che chiediamo a tutto il mondo della cultura, a coloro che realizzano eventi, di realizzare all'interno degli stessi un'attività specifica per i bambini. Ecco, oggi il messaggio che vogliamo lanciare è un percorso che dobbiamo fare insieme, un percorso di crescita importante, un percorso di qualità che deve qualificare la nostra città e farla sempre più diventare una destinazione turistica a misura di bambino. Da questo giugno siamo partiti con una promozione specifica molto importante che porterà una campagna social in tutte le località definite dal piano strategico come le migliori per la nostra destinazione che sono la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Toscana, usciremo nei migliori quotidiani nazionali ma anche internazionali. In questi giorni proprio una rivista tedesca dedicata alle famiglie farà un articolo dedicato alla città di Fano. Non solo, staremo su 20 giorni su uno dei principali siti di informazione dedicato alla famiglia. Insomma, vogliamo qualificare fortemente la città come destinazione turistica a misura di bambino e per far questo dobbiamo fare rete e questo è il primo passo per dare qualità alla nostra città. E fervono i preparativi per la decima edizione di Passaggi Festival. Quest'anno l'evento partirà sabato 18 giugno dal comune di San Costanzo con Andrea De Logu, Veronica Pivetti, Iva Zanicchi e Catena Fiorello. Saranno quattro popolari scrittrici del panorama letterario e dello spettacolo a dare via alla decima edizione di Passaggi Festival. La manifestazione partirà sabato 18 giugno dalla piazza di San Costanzo con la rassegna di narrativa Extra Passaggi per poi tornare a Fano dal 20 al 26 giugno con oltre 200 ospiti e più di 140 appuntamenti. Abbiamo scelto San Costanzo perché è uno dei comuni, dei castelli vicino alla nostra città di grande qualità da un punto di vista urbanistico, urbano e anche da un punto di vista amministrativo. Quindi è stata la prima scelta per valorizzare questi dieci anni di attività di Passaggi Festival. Le novità non sono solo la presenza di San Costanzo, ce ne sono anche altre. Abbiamo una media di 15 manifestazioni al giorno dal 18 fino al 26 e quindi tutto questo diciamo ci mette nelle condizioni di pensare positivamente anche per il futuro visto che Passaggi Festival è nato a Fano ma noi abbiamo l'intenzione di diventare un po' il festival di tutto il territorio e di tutta l'area vasta della provincia di Peso Urbino. sapete anche che stiamo collaborando anche con la Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro perché siamo convinti di una cosa, che più manifestazioni di qualità ci sono e diciamo più viene valorizzato il territorio. Non è concorrenza, anzi questa dimostra fino in fondo la capacità degli amministratori, delle persone che pensano alla valorizzazione attraverso la cultura di questo territorio e quindi è una strada che noi vorremmo perseguire anche nei prossimi anni. Particolarmente grato ed emozionato il sindaco Filippo Sorcinelli che ha ringraziato gli organizzatori di Passaggi e il Comune di Fano per aver permesso al borgo di San Costanzo di essere al centro dell'attenzione nazionale con una proposta culturale di altissimo livello. Non potevamo partire meglio con questo allargamento di passaggi festi che va anche verso l'entroterra, in questo caso San Costanzo perché Andrea De Logu porterà il proprio primo romanzo che si intitola Contrapasso Veronica Pivetti la stessa sera di sabato ma alle 21.15 Tequila Bang Bang, un giallo messicano Domenica invece Iva Zanichi arriverà con un romanzo non con una sua biografia che si intitola Un altro giorno verrà chiude in bellezza questa rassegna Catena Fiorello con i cannoli di Marites le signore di Montepepe. San Costanzo è pronta, i nostri sancostanzesi sono pronti ad ospitare le tantissime persone che vorranno venire a San Costanzo in questo weekend così importante e vi aspettiamo tutti a San Costanzo sabato 18 e domenica 19 giugno. Ad un passo dall'esame di maturità sono arrivati gli esiti delle competizioni a cui hanno partecipato le scuole, i giochi della chimica e la gara nazionale. Nei primi che contavano circa 10.000 partecipanti da tutta Italia Littis Mattei di Urbino ha fatto man bassa alla fase regionale ottenendo tutte le prime 14 posizioni nella categoria biegno e le prime 10 nella categoria triegno invece alla fase nazionale di Roma hanno ottenuto un risultato eccellente sia Andrea Grossi che si è classificato quarto assoluto meritandosi una menzione speciale e ufficiale da parte della commissione giudicatrice sia Mattia Radicchi che si è aggiudicato l'ottavo posto purtroppo anche quest'anno è sfumata la possibilità di poter partecipare alle Olimpiadi internazionali a cui Andrea poteva ambire a causa della difficile situazione politica che ha indotto alla rinuncia di numerose squadre nazionali tra cui l'Italia Sono stati i bagni caffè Arzilla a tenere a battesimo la nuova stagione del beach volley che vede al fianco del CSI di Pesaro e Urbino tante realtà sportive del territorio insieme a loro sabato 11 e domenica 12 giugno è stato organizzato un 2x2 misto che ha riempito lo stabilimento fanese come i tempi d'oro facendo respirare un bel clima di normalità 30 le coppie che si sono date battaglia a dominare la scena sono stati Mari Calucconi e Mattia Turiani che hanno vinto tutti i sette disputati nel fine settimana compresi quelli di finale in cui hanno avuto la meglio su Nadia Di Tommaso e Federico Moro terzo posto per Maria Elena Morsucci e Federico Scriattoli per questa edizione è tutto subito dopo di noi le previsioni del tempo a seguire il terzo approfondimento di Passaggi Festival l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la lettura dei quotidiani con il direttore Marco Ferri grazie per averci seguito e arrivederci grazie a tutti Autore dei sovrapposti